Al termine dei lavori di riqualificazione è stata inaugurata Sava Piazza Padre Pio, posta all'ingresso della città, quindi biglietto da visita per chi proviene dalla strada provinciale che conduce a Francavilla Fontana. Dopo il taglio del nastro c'è stata la benedizione impartita da Don Fernando Mancino. Padre, figlio e spirito santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Particolarmente orgoglioso è il sindaco Dario Iaia per la riqualificazione di un'area ricca di attività commerciali e viva per la presenza di molti giovani nelle ore serali, divenuta appunto di riferimento e di incontro. Il restyling necessario non soltanto della piazza ma di un po' tutta l'area, quindi abbiamo riqualificato la piazza Padre Pio che aveva necessità di un rifacimento, soprattutto perché questo è il luogo frequentato da giovani ed è anche circondato da attività commerciali che comunque hanno la necessità chiaramente di operare e di prestare i servizi quanto più possibile di livello nei confronti dei turisti, nei confronti di chi viene per usufruire di queste attività, di ciò che loro offrono. Quindi un rifacimento di una piazza moderna, una piazza aperta, ricordo che questa era una piazza buia con dei pini che rendevano veramente scuro il luogo, peraltro avevano divelto anche i marciapiedi così come le radici dei pini sappiamo fanno. Devo ringraziare l'assessorato ai lavori pubblici per l'ottimo lavoro fatto, l'assessore Saracino, l'archietto Fischetti, i progettisti che hanno lavorato, l'impresa e siamo felici questa sera in occasione di Calci di Stelle di restituire questa piazza alla città. Oltre alla riqualificazione della piazza abbiamo anche rifatto le strade attigue e quindi veramente un quartiere, una zona di questo quartiere savese viene restituta alla città in condizioni molto migliori di come l'abbiamo trovato. Un'altra zona della città dove incrementare la Movida quindi? Beh sì, in questi anni abbiamo lavorato tanto in questo senso a partire da Piazza San Giovanni, Piazza Risorgimento, il Parco Sassi, abbiamo anche in cantiere una nuova area fitness nei pressi della pista ciclabile quindi veramente sarà una chicca che il progetto verrà approvato a settembre quindi io spero entro l'anno di poter aggiudicare già i lavori e poi Piazza Padre Pio, in questi giorni sono anche in corso i lavori in Piazza Europa quindi davvero dei polmoni verdi in qualche maniera o comunque dei luoghi di aggregazione, dei luoghi in cui si diventa comunità e quindi come amministrazione cerchiamo di lavorare sempre in questo senso. L'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Saracino ha spiegato che il grosso della cifra a disposizione è stata utilizzata per i necessari interventi strutturali di consolidamento in quanto sotto la piazza c'è la sottostazione dell'Enel, oltre alla cabina di smistamento del gas cittadino. Io vorrei fare uno riepilogo su quello che è stata la manutenzione poi straordinaria di questa bella piazza. Noi avevamo a disposizione circa un budget limitato di circa 45.000 euro che decurtate dell'IVA e delle spese tecniche generali per lavori poi alla fine ci sono rimasti circa 30.000 euro per ristrutturare questa piazza. Quindi ovviamente abbiamo deciso di dare una priorità a tutta una serie di sottoservizi che sono presenti perché abbiamo dei sottoservizi molto importanti e quindi abbiamo cercato anche di privilegiare in tal senso quello che c'è sotto la piazza, prima di pensare a quello poi che ci può essere sopra come abbellimento e come restyling. Quindi siamo partiti da questo, molti di questi sottoservizi ci hanno anche fatto perdere un po' di tempo e quindi abbiamo cercato di fare un lavoro che sia completo dal punto di vista anche della sicurezza. Quindi con quello che ci è rimasto abbiamo poi demolito la pavimentazione, tagliato gli alberi che erano presenti e che davano problemi alle attività commerciali, al manto stradale e alla pavimentazione. Purtroppo, è doveroso dirlo, avevano difficoltà anche a salire sulla piazza perché il manto era disconnesso, i disabili avevano qualche tipo di problema anche a cedere alla fontanina pubblica. Cioè c'erano una serie di piccole problematiche che però abbiamo superato completamente. Ho fatto questa piccola premessa perché magari adesso è facile venire, vedere la piazza eccetera. Adesso continueremo in tal senso con altre risorse a disposizione a cercare di metterci qualche tipo di restyling in termini di verde come anche in termini funzionali. Aggiungeremo qualche panchina sul lato più a sud e cercheremo anche di ripulire le due statue che sono state presenti qui sin dalle origini, sia Lausanne e più avanti che la statua del santo di Padre Pio. Ecco, io vorrei fare davvero un ringraziamento all'ufficio tecnico e ai tecnici che hanno lavorato anche all'impresa in questa piazza perché essendo molto piccola e avendo tanti sottoservizi ovviamente si è lavorato in maniera molto puntuale su tante piccole cose. Adesso la restituiamo alla città, io sono molto felice di questo anche perché abbiamo cercato di dare un indirizzo di ritorno alla natura perché qui prima era tutto pavimentato eccetera, c'era poco spazio destinato alla terra vera e propria dove i bambini anche possono giocare e quindi sì, è un ritorno alla natura, portare un pezzo di natura all'interno della città. Questo è l'indirizzo che l'amministrazione comunale ha dato in questo piccolo intervento ma che stiamo dando anche su altri tipi di interventi quali un altro parco che a breve vi porteremo a conoscenza che è proprio questo l'impostazione, il ritorno alla natura, il ritorno al naturale, alle origini e alla terra. Grazie a tutti.